Palazzo Carbonati, l'immobile cinquecentesco che il comune di Arezzo ha messo all'asta, è stato assegnato a Patrizio Bertelli, presidente ed amministratore esecutivo del gruppo Prada, probabilmente l'unico ad aver presentato un'offerta. Il prezzo base di partenza era fissato ad 1.592.000 euro. Manca adesso solamente l'ufficializzazione da parte del comune, ma dovrebbe essere questione di giorni. Il maestoso edificio, che si trova a pochi passi da Piazza Grande, dove Bertelli è nato, oggi versa in uno stato di degrado avanzato, sarà riqualificato e tornerà al suo splendore e prestigio. Al momento non è però nota la destinazione che avrà il palazzo che si trova in via Albergotti, nel cuore della città. Secondo indiscrezioni potrebbe trasformarsi in una struttura ricettiva di lusso. Prosegue così il progetto dell'imprenditore di ridare vita e splendore ai luoghi che hanno fatto la storia di Arezzo. Bertelli aveva già rilevato locali storici come il Caffè dei Costanti, immortalato anche nel film La Vite Bella, il ristorante La Buca di San Francesco e La Capannaccia. Aveva anche investito nell'edicola di Piazza Sai Jacopo. A febbraio, infine, la donazione di un milione di euro per il restauro della Pieve di Santa Maria.